Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Momentaneamente ritornerà il bel tempo sulle nostre regioni grazie all'espandersi di un campo di alta pressione che garantirà un rialzo delle temperature e cieli più soleggiati, ma correnti più fresche in quota rimarcheranno una situazione ancora incerta durante le ore pomeridiane. Andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per lunedì 22 maggio. Al mattino cieli sereni su quasi tutti i settori lucani e pugliesi. Nelle prime ore del pomeriggio aumento della nuvolosità sui settori lucani più occidentali, con possibilità di rovesci o locali temporali. Altrove i cieli risulteranno sereni o poco nuvolosi. In serata ultimi fenomeni sul basso potentino e zone ioniche, sulla Puglia invece ampie schiarite. Per quanto riguarda le temperature, ritorneranno ad aumentare soprattutto nei valori massimi. Ventilazioni ancora debole e moderata di maestrale con raffiche più forti lungo le coste adriatiche, in attenuazione dalla sera. E per quanto riguarda i mari, mossolo adriatico, poco mossolo ionio. Ed ecco il nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Oggi ringraziamo il nostro telespettatore Alessio Spada, che come ci ha raccontato, mentre fotografava la sua cagnolina, ha immortalato poco a largo di Gallipoli lo spettacolo di un fulmine che si staglia in mare. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattatici al numero whatsapp e alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.